La lotteria Italia 2018 La lotteria Italia 2018 La lotteria Italia, diretta tv a premi. Questa sera, però, l'attesa maggiore è tutta incentrata sui codici dei biglietti ufficiali della Lotteria Italia 2018 che sono associati alla prima categoria. Anche quest'anno, infatti, sono cinque i premi associati alla prima fascia tra cui quello più importante e atteso ed è valore di ben 5 milioni di euro. Ricordiamo che lo scoraso hanno la fortuna fatto tappa aranica, in provincia di Bergamo dove viveva il fortunato vincitore, che si è portato a casa il cospicuo monte premi del valore di 5 milioni di euro. Dove arriverà, invece, quest'anno la dea bendata, si fermerà di nuovo al nord oppure scenderà nel sud Italia, dove anche quest'anno sono stati un bel po' i biglietti della lotteria acquistati? Proprio stasera nel corso della diretta del TG1 e durante l'anteprima della puntata speciale dei soliti ignoti condotta da Amadeus è stato svelato il numero ufficiale dei biglietti della lotteria, che sono stati venuti quest'anno nel nostro paese. Complessivamente il numero dei ticket acquistati dagli italiani ammonta a 8.6 milioni, un numero in leggero calo rispetto al totale della scorsa edizione, quando i biglietti venduti arrivavano a quasi 9 milioni. Premi Lotteria Italia 2018 Prima Seconda Terza Categoria Nonostante ciò, il numero di biglietti venduti resta decisamente alto e questa sera saranno un bel po' gli italiani, che resteranno davanti al televisore per scoprire l'estrazione finale dei biglietti vincenti di questa lotteria Italia 2018. Vi ricordiamo che in Palio non ci sono soltanto i premi della prima fascia, che sono quelli più generosi ma anche quelli di seconda e terza fascia, che comunque fanno gola agli italiani, che hanno giocato quest'anno. Sì, perché con 5 euro, il costo del biglietto della lotteria, potrete vincere un premio di 50.000 oppure 20.000 euro. In questo caso, però, i codici dei biglietti trionfattori della seconda e terza fascia non saranno diffusi in diretta televisiva su Rai 1 durante lo speciale di questa sera, ma si potranno consultare soltanto da domani sul sito ufficiale della lotteria.